Le lingue che conosco io sono Bambara, Wolof e inglese, che conosco io, che aiuto a fare l'elezione. E di che nazionalità sono queste lingue? Sono di Mali, Costa d'Avorio, Senegal. È pesante perché io 7, 5, 6 anni fa ero come loro, sono arrivato a Lampardusa, in Sicilia, sono come loro. Quindi so le difficoltà, il viaggio che hanno affrontato, sono arrivati qua, sono contenti, sono felice per loro. Questo mi ricorda che è l'importante di accoglienza, perché io se sono qua oggi dopo 6 anni a accogliere loro, a sapere i loro dolori, i loro problemi, per tradurlo in italiano, per me è un grande traguardo. Io sono venuto dalla Libia, io sono del Gambia, siamo arrivati lì in Sicilia e poi mi hanno portato qua. Ero minorenne, 7 anni, che sono arrivato. No, io ho visto, quello che mi colpisce di più è che ho visto i ragazzi, i migranti quando scendono, vedo le felicità nei loro occhi, vedo che abbracciano gli operatori della nave, quindi vedo che quello mi colpisce, vuol dire che finalmente sono salvati, sono arrivati.